Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video sono Fabric39 e oggi ragazzi siamo su Clash Royale e ragazzi dopo, io volevo dire che dopo entrerà David07 che poi si farà una live insieme sul mio canale ragazzi sul mio canale, poi forse anche sul suo canale non si sa, ce lo dirò oggi intanto facciamo una battaglia un po', facciamo una battaglia, conquistiamo questo baule della corona conquistiamolo ok ciao Bipo80S, ciao ha messo la capanna questo è che un pochino è buono, è forte dai cos'è in arena 5, già l'ho detto ora, è in arena 5 leggendario nono, se non mi ricordo, se non l'ho detto non mi ricordo questo è di livello 5, è in arena 6 è forte vabbè, provo con gli scherzi questo è il deck dei goblin, che cazzo è da qua? questo si fa così, si fa pareggio già gli ho fatto un mezzo culo la sua e lui vabbè ha messo la strega non ce l'aveva vai qui oh cazzo ragazzi oh cazzo oh cazzo ragazzi oh cazzo oh cazzo mi piace oh oh cazzo oh cazzo oh gli ho fermato un pochino l'attaque gli ho fermato vai all'inferno ma che cazzo oh cazzo che leggerà che leggerà che leggerà un cambio su sale un cambio su sale questo è il tuo motore cazzo 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 è il deck della forno che ha fatto il ciccino? no credo perché io a volte vedo i filmazzi guarda con Emma quando sono un leggendario questo l'ho creato io no credo di no bobo quella valchiria al 3 che cazzo non ce l'ha fatta dai scheletrino è il livello 6 tranquillo metto sempre è la volevi madonna questi 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 spiglitelli cazzo oh hanno fatto allora c'è il tuo motore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un corone, quindi è meglio fare tre corone, raga. Di nuovo livello 6. Subito partiamo in difesa. Poi farò anche la live che l'avevo già detto. Non so perché l'hanno fatto gli scheli... Non so perché hanno fatto gli scheli... Mi è inutile. È inutile però... Dipende dal più mele giochi. Vai, Mori. Ok. Non c'è uno spaccionato, quindi... Non so perché ce l'ho spaccionato. Non so. Che scaricavo... Perché mi sono a scarica lì? Per sicurezza se... Qua c'è arrivava. Non ti difendi. Non si difendi, attacca. Uh, cazzo. 110. Prova sbattata. Animo fallino. Questo abbiamo un po' attento che possiamo anche perderla. Ma questo possiamo anche perderla, però... Vinci a notte mai. Quindi... Non la perdiamo. Era una buona tecnica quello che ho fatto io. Non è che mi vanto. È che solo che... Ho fatto quittare l'avversario. Ho fatto la quittare l'avversario, ragazzi. Quindi... Andiamo. Schieretini, gogli, porto e sega. Vittoria. E apriamolo. No, se non me lo apri, mi incazzo. Oh! Troviamo una leggendaria, ragazzi. Mi sa sempre... C'è un sacco di leggendarie. Leggendaria. Leggendaria. Guardate quattro ragazzi c'ho leggendaria. Lo trovate, lo scioppate. Ragazzi, lo scioppate. Belli leggendari, vero? Guardate. C'ho questo, c'ho questo. C'ho questo. C'ho questo. Beh, niente. E non potete fare lo skill, il prank. Ragazzi, è questo. Dai, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione di DavidCity27. Mi raccomando, iscrivetevi. Poi lui fa un video anche su Clash Royale con me. Ciao!